E adesso passiamo al calcio di Serie D. Domenica l'Alma Juventus Fano ha vinto in casa contro il San Nicolò Teramo per 3 a 0. A segno Sivilla Gucci Ambrosini, la squadra Granata si è quindi vendicata dopo il pesante 5 a 1 subito all'andata. E come sempre adesso guardiamo i risultati e le classifiche e poi le pagelle di Catalani. Cominciamo con i risultati. Il prossimo turno vede i Granate impegnati a Fermo contro la Fermana. La classifica vede in testa sempre la San Benedettese con 65 punti, seguita dalla Matelica con 54 e dal Fano 50 punti. In coda invece Fanalino Giulianova con 22 punti. E adesso andiamo a vedere le pagelle di questa 27esima giornata. Marcantonini 7, Veruschi 6,5, Bartolini 7, Lunardini 5, Nodari 7, De Iori 6,5, Sivilla 7, Gregorini 6, Gucci 7,5, Borrelli 8, Marianeschi 6,5, Ambrosini 6,5, Marconi e Favo senza valutazione e Alessandrini 6,5.